Axel, presidente dell'associazione culturale Fantasia, perché è stato scelto l'osido e cocchiola di Bagliate d'Alda per il festival? Il festival cerca sempre dei luoghi comunque protetti, belli naturalmente, perché crediamo che le persone possano riunirsi in questi contesti per uscire un po' dalla dinamica di quello che è il divertimento che siamo abituati a vivere nei locali, discoteche, che sono comunque dei luoghi di occlusione noi cerchiamo di portare un momento di festa, che è un momento che comunque le persone devono vivere non possiamo vivere di solo lavoro, abbiamo anche bisogno di momenti per sbagarci, per divertirci e farlo in maniera consapevole in un posto comunque a contatto con la natura, a contatto con altre persone, culture differenti sia una cosa molto importante, noi qui riuniamo molti contesti differenti dall'arte, dalla cultura, al circo creiamo attività per bambini, però nel frattempo comunque proponiamo anche quello che ai giovani piace musica elettronica, divertimento, comunque ballo, svago, ma comunque rimanendo consapevoli e cercando sempre di tenere una linea bella di gioia e di condivisione questa è anche la condivisione che abbiamo trovato qui, la bellezza che abbiamo trovato nel condividere degli spazi belli con delle persone comunque che si sono ritrovate magari anche ad affrontare qualcosa che non conoscevano però comunque aperti mentalmente a capirci e si è creata questa bellissima connessione con tutte le persone che vivono questo ambiente insieme a noi C'è stata partecipazione all'evento e da dove proviene tutta questa gente? Le persone che vengono a Fantasia Festival provengono un po' da ogni parte d'Italia, anche d'Europa abbiamo avuto anche artisti che venivano da Sud America comunque cerchiamo di raggruppare ogni tipo di influenza, di cultura crediamo che Fantasia Festival è proprio un punto d'incontro tra ogni tipo di espressione dell'essere umano in ogni sua forma, quindi può essere un gioco oppure un'espressione musicale oppure un'espressione artistica o qualunque altro tipo di espressione Quali tipi di spettacoli c'è stato nel campo? Abbiamo avuto degli spettacoli circensi, abbiamo avuto degli spettacoli musicali abbiamo avuto delle visual che sono tipo delle proiezioni, delle arti visive e abbiamo cercato di creare un contesto in cui ogni espressione dell'essere umano ogni forma di ciò che l'essere umano è in grado di creare può esprimerla qui Ringrazio assolutamente l'amministrazione, ringrazio le forze dell'ordine ringrazio assolutamente il corpo della protezione civile come il corpo della misericordia di Badia Tedalda che ci hanno supportato in questo evento, ci hanno aiutato a renderlo sicuro ci hanno aiutato in ogni modo davvero a fare sì che questa manifestazione si svolgesse nella sua completa tranquillità e accoglienza, ci siamo sentiti davvero accolti Agostino Angeli, proprietario del luogo dove è stato fatto questo evento cosa ne pensa di questi giovani? Abbastanza tranquilli, sarebbe la prima volta nella vita che la gioventù si è comportata bene speriamo che continuino Siamo davvero contenti di averti incontrato Agostino speriamo che ne nasca una lunga collaborazione grazie di averci ospitato in questo spettacolare posto che hai curato davvero con tanto affetto negli anni penso e con tanta passione questo sì, l'ho accennato prima che siete dei ragazzi abbastanza tranquilli e non è oggi il modo della gioventù di oggi però vi è essere contenti che è andato tutto tranquillo e tutto bene Antonio Cominazzi, assessore al turismo nel comune di Badia Tedalda che cosa ha ottenuto il territorio con questo evento Fantasia? È un evento che ha portato una notevole partecipazione di persone e queste persone hanno girato, hanno circolato nel territorio quindi ne ha beneficiato sicuramente chi ha un'attività commerciale le strutture di ristorazione e un po' tutti e poi comunque sia la presenza della gente è sempre importante in territorio come i nostri perché hanno una vocazione per l'ospitalità delle persone quindi questi eventi qui bisognerebbe ripeterli sempre ogni anno e anche più una volta all'anno perché sono eventi che portano, fanno conoscere il territorio e portano anche l'economia al territorio Che cosa ci si aspetta? Da queste iniziative, per la verità, ci si aspetta che innanzitutto ci siano persone che abbiano anche, so, esperienze diverse famiglie insieme a persone, ragazzi giovani e quindi mettere insieme la cultura, la natura, la musica diciamo lo stare insieme e il divertirsi insieme credo che siano eventi che magari qualcuno può avere dei pregiudizi ma io ho visto che la cosa è stata organizzata bene c'è stata la massima serietà nel modo di gestirla anche e si è visto un afflusso notevole di persone quindi per me, per il territorio dei Bagliate d'Alda è stato un successo e mi auguro che si possa ripetere anche nei prossimi anni